Sei il cane della senatrice Monica Cirinna, in quota PD. Passi le tue state a Capalbio e i tuoi amici umani vogliono donarti una cuccia nuova e più grande. Che cosa potrà mai andare storto? Sono certo che questo caso lo ricorderete tutti, perché sembra uscito da un film dei fratelli Vanzina. Tuttavia, per i pochi di voi che avrebbero potuto passare l'ultimo anno su Marte, lo riassumo, e lo riassumo male. La senatrice Monica Cirinna è un politico divenuto famoso più per i suoi modi di fare pittoreschi che per la sua legge sulle unioni civili. Appartiene al PD e incarna lo stereotipo radical chic. In teoria, essendo persona di sinistra, dovrebbe valorizzare il lavoro vero, quello svolto sul campo, con il sudore della fronte, gratificare i dipendenti e difenderli dagli abusi dei datori di lavoro. E invece, quando è una sua dipendente a rassegnare le dimissioni, la senatrice scade nei più beceri luoghi comuni italioti radical chic. Nell'agosto dell'anno scorso aveva infatti pubblicato un tweet che suonava più o meno così. Questa dipendente ingrata se n'è andata perché si annoiava, nonostante il fatto che io la strapagassi e l'avessi messa in regola. Cioè, le pagavo tutti i contributi IMSS. E adesso mi tocca fare l'ortolana, cucinare, rassettare e pulire. Cioè, ve ne rendete conto? Cioè, io pagavo anche i contributi IMSS che erano dovuti a questa qui. Come si permette di farmi fare le cose come qualunque italiano normale? Ho cinque giorni di vacanza e mi tocca addirittura pulire la casa e cucinare per me. È inammissibile questa cosa. Poi, naturalmente, c'è stato un feedback tremendamente negativo a questo messaggio da parte dei media e qualcuno probabilmente ha preso per la giacchetta la senatrice e le ha spiegato che non è questo il modo di rapportarsi con noi plebei del pubblico. E la senatrice stessa ha presentato le sue scuse. Insomma, la senatrice, sebbene per i motivi sbagliati, non ha difficoltà a finire sotto le luci dei riflettori. E sotto i riflettori è finita anche per la mazzetta di denaro trovata nella cuccia del suo cane. Per farla breve, sempre nell'agosto del 2021, la famiglia Cirinna decide di donare una cuccia nuova all'amico a quattro zampe. L'operazione viene materialmente svolta da uno dei figli della Cirinna e da un operaio dell'azienda agricola. I due, mentre smontano la vecchia cuccia del cane, fra alcuni assi trovano una busta al cui interno c'è una mazzetta con 48 banconote da 500 euro. I ragazzi, mostrando estrema onestà e correttezza, chiamano immediatamente i carabinieri e consegnano a loro la somma di 24.000 euro appena trovata. A questo punto, da una parte vengono aperte le indagini non si capisce bene per cosa, e dall'altra parte la notizia diventa di pubblico dominio, rendendo il cane della Cirinna e non solo protagonista di un'infinità di meme. Per qualche strano motivo, la Cirinna è in imbarazzo, si sente a disagio, prova perfino paura, temendo che il misterioso o i misteriosi proprietari di quella somma possano tornare indietro per estorcergliela. Affermazioni un tantino surreali per almeno due motivi. In primo luogo, la Cirinna è una parlamentare che opera nella commissione antimafia e ha quindi tutti i mezzi per garantire la protezione sua dei suoi cari e del suo patrimonio. E in secondo luogo, se ti spaventa così tanto l'esistenza, peraltro ipotetica, di un generico delinquente che potrebbe venire a romperti le scatole per riprendersi dei soldi, come puoi svolgere l'attività di parlamentare antimafia e confrontarti con delle realtà criminali molto più grandi di questa, infinitamente meglio strutturate e realmente pericolose? Ecco, forse il caso di farsi trasferire in una commissione diversa. A parte questo, nell'estate scorsa praticamente chiunque dalla Cirinna all'uomo della strada hanno ricostruito diversamente l'origine delle banconote. Per la Cirinna sono banconote sicuramente abbandonate lì da qualche criminale, per alcuni sarebbero mazzette che l'onorevole non può ammettere di aver incassato, per altri sarebbe un ingegnoso sistema per riciclare dei soldi presi in nero dall'azienda e via discorrendo di ipotesi in ipotesi, tutte naturalmente prive di fondamento. Diciamoci le cose come stanno, o la famiglia Cirinna si è dimenticata di avere quei soldi nascosti in quel posto, oppure diversamente la senatrice e o il marito avrebbero certamente provveduto a cambiarli, a spenderli prima del 2019, e cioè prima che quelle banconote finissero fuori corso. Peraltro si tratta di denaro contante, per cui un modo per autoriciclarlo lo trovi, vai a fare spese più o meno piccole di quegli importi nei negozi e sei a posto. Insomma, stiamo parlando di 24.000 euro per delle persone che vivono a Capalbio e hanno un'indennità pari a circa 20.000 euro lordi al mese, a cui bisogna aggiungere i proventi dell'azienda agricola e di chissà quali altre iniziative imprenditoriali. Insomma, sono ipotesi che non reggono, e detto fra parentesi, ipotesi per ipotesi, a questo punto si può anche ipotizzare che quel denaro appartenga al fratello della Cirinna. Non se ne parla mai sui giornali, ma il fratello della Cirinna è latitante dal 2015 e recentemente è stato anche condannato in appello per usura. A questo punto, visto che in quest'anno si è ipotizzato di tutto e di più, buttateci nel calderone anche questa tesi. Il fratello della Cirinna è passato, magari anche a sua insaputa, ha salutato il cane, gli ha lasciato lì la mazzetta di banconote come regalo di addio e se n'è andato. Insomma, la triste realtà è che nessuna di queste ipotesi è dimostrabile. Tuttavia, bisogna anche considerare il fatto che tutte queste ipotesi sono anche inutili. E sono inutili proprio perché non c'è alcuna prova che quella somma di denaro sia provento di reato. Il pubblico ministero può solo prendere atto del fatto che quelle banconote sono fuori corso dal 2019 perché il taglio da 500 euro non si usa più da allora e che alcuni numeri di matricola risultano cancellati, probabilmente per le intemperie, visto che quella mazzetta di banconote si trova nella cuccia del cane da chissà quanto tempo. Insomma, non è che tutti i casi si devono chiudere in modo eclatante. Ci sono anche quelli che forse non si sarebbero mai dovuti aprire. Questo caso, per esempio, si chiude con una richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero al GIP e una nota in stile Fratelli Vanzina. L'avvocato della Cirinna chiede infatti che i 24.000 euro siano restituiti all'onorevole. Infatti, secondo l'onorevole, quelle 48 banconote sarebbero tecnicamente un tesoro ai sensi dell'articolo 932 del Codice Civile e il tesoro spetta al proprietario del fondo. La Cirinna precisa altresì che quei soldi non li vuole tenere per sé o per la sua famiglia ma intende donarli a un'associazione antiviolenza del luogo. Il GIP ha rigettato la richiesta per due motivi. In primo luogo, quella somma non rappresenta un tesoro vero e proprio ma è soltanto una cosa ritrovata. In questo caso, infatti, si dovrebbe applicare la disciplina dell'articolo 927 del Codice Civile e deve essere quindi consegnata al sindaco affinché la custodisca e la gestisca nei modi e termini di legge. In secondo luogo, il giudice fa notare che il tesoro non appartiene in via esclusiva al proprietario del fondo ma questi deve dividerlo con chi lo ha ritrovato. Nel caso specifico, metà del tesoro spetterebbe al figlio della Cirinna e all'operaio che si trovava con questo e solo l'altra metà spetterebbe alla Cirinna e o al marito a seconda di chi risulta proprietario dell'azienda agricola. Insomma, sotto il profilo giuridico, la questione è tanto semplice quanto controversa. Tutto dipende da come interpreti la definizione di tesoro. Delle banconote possono essere un tesoro e cioè una cosa mobile di pregio? Sono state nascoste o semplicemente abbandonate? E soprattutto, puoi oppure no risalire al legittimo proprietario? Le domande da porsi ai sensi dell'articolo 932 del nostro Codice Civile sono queste e a seconda della risposta hai un tesoro da una parte oppure un banale oggetto smarrito dall'altra. Quello su cui vi invito a riflettere è la questione morale. L'onorevole Cirinna sa perfettamente di non essere la proprietaria di quelle banconote ma ne rivendica il possesso per fare beneficenza. E questo fatto, in teoria, dovrebbe farle guadagnare un mucchio di punti morali. Del resto, la Cirinna è ricca, può permettersi di dare quei soldi a un'associazione senza fine lucro. Qualche altro poveraccio, se li avesse trovati nella sua cuccia del cane, li avrebbe magari impiegati per mandare la figlia in università o per pagare una fetta di mutuo. E ob torto collo, questa soluzione ci può stare. Ma tuttavia, è davvero una soluzione giusta? Intendo dire, a quale titolo la Cirinna dovrebbe decidere dove quei soldi vanno spesi. Quelle banconote sono oggetti smarriti che devono finire nel bilancio dello Stato, non di un'associazione che un politico appoggia per avere anche un ritorno d'immagine. E voi cosa ne pensate? Come sempre, fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto. Se poi seguite con costanza il canale, guardate i video, vi piacciono, ma non vi siete iscritti, non mettete i like e non ne condividete i contenuti, fatelo. Cliccate sul pulsante iscriviti, mettete un bel like e condividete il video con i vostri amici. Se non lo farete, il vostro cane passerà le vacanze a Capalbio. Io vi avviso. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.